Questo se vende di truffa, di truffa, di truffa. Noi abbiamo raccolto 55 scuole, 55 istituti italiani per un totale di circa 2000 presenze. Sono i numeri della diciottesima edizione del Festival di Primavera, la rassegna internazionale di cori scolastici di voci bianche e giovanili che si tiene fino al 22 aprile al Teatro Verdi di Montecatini. Noi siamo molto contenti perché il diciottesimo Festival di Primavera è un qualcosa, si può dire siamo diventati maggiorenni e siamo diventati maggiorenni aprendo una nuova era. Anche un nuovo direttore artistico, Carlo Pavese, che ha portato innovazioni in questo palinsesto ormai strutturato da ben 18 anni. Abbiamo anche il coro giovanile italiano in questo periodo che farà uno stage, farà dei concerti sul territorio e mercoledì aprirà la seconda sessione di questo Festival di Primavera. Ancora giovanile italiano, sono 40 ragazzi scelti che arrivano da tutta Italia, un po' la nazionale della coralità di Feniarco. Un festival che occupa tantissimi spazi a Montecatini e anche ha un'importanza dal punto di vista del turistico alberghiero e quindi ci fa piacere salutare questo ritorno e essere gioiosi insieme a loro perché sono una marea di ragazzini e bambini che fanno colore e fanno felicità nella nostra città. Grazie mille! Oh no!